Ora passo la 4.5 per prepararmi la sfumatura Ora uso la 6.0 per preparare la linea della sfumatura Ora passo la 0.5 per crearmi un punto luce Ora inizio con una 2.0 metri Mano a mano muovo la levetta in modo da arrivare una 3.0 e non crearmi linee inutili Fatto ciò vado a pulirmi la coroncina Col pettine e un po' con la forbice A modo di farmi una sfumatura perfetta Poi inizio a pulirmi sotto con la 6.0 Detto fatto ciò vado con lo shig In modo da farmi il pelo e il controvelo e mi da molta più luce la mia sfumatura Facciamo un piccolo disegno su richiesta del cliente Ecco qua, il taglio è finito Facciamo un piccolo disegno